Innanzitutto le notizie di campo che riguardano il Pescara, l'antivigilia della sfida importantissima con la Salernitana che chiude la regular season del campionato in attesa di una data dei play-off ancora tutta da confermare viste le vicissitudini del Palermo. Pilon tira un sospiro, questa mattina infatti Mancuso è tornato in gruppo. Dunque è arruolabile per la sfida di sabato contro la Salernitana, così come Bruno. Sabato dirigerà il signor Nasca di Bari e saranno assenti, invece confermati per rotta per squalifica e del sole per infortunio. Ma per saperne di più ci colleghiamo con Massimo Profeta al suo fianco un doppio ex di questa sfida. A te Massimo, a te la linea. Ci senti? Sì, sì, grazie. Ti sentiamo forte e chiaro Carmine in compagnia del doppio ex. Un piacere rivederlo. Franco Oddo, come stai Franco? Salve, saluto a te, saluto a tutti. Stai benissimo. Bene, direi bene, sì sì sì. Gli anni passano però il fisico ancora mantiene. Io lo ripeto spesso, l'età non è anagrafica ma biologica. Conta lo spirito. Questo è sicuramente. È chiaro, c'è da dire che gli anni passano sicuramente. Però ecco, se uno li accompagna, bene, con quello che occorre. Sano alimentazione, vita come si deve, insomma uno riesce un po' di sport, questo è importante. Veniamo a noi. Allora, Pescara-Salernitana. La Salernitana si gioca tutto quasi perché non può assolutamente perdere l'Adriatico. Pescara ha disputato, numeri alla mano, un ottimo campionato. 52 punti, quinto posto. Sì, obiettivamente non si può dire altro. Cioè nel senso che Pescara ha fatto un buon campionato, forse non si prevedeva neanche che facesse questo tipo di campionato. Malgrado quello c'è qualche malumore, si speggia qualche malumore. Perché indubbiamente forse si sarebbe potuto anche fare di più a un certo punto della stagione. A un certo punto della stagione la squadra ha risentito un po' di stanchezza. Probabilmente ha adoperato, cioè molti giocatori sono stati molto sfruttati. Quindi è chiaro, avevano bisogno... Mi ha fatto pensare alla partita di ieri sera, per esempio, dell'Ajax. Anche l'Ajax non è più brillante, ha spunti di gioco ancora notevoli, a me piace moltissimo come gioca. Però è chiaro che alla lunga la stanchezza si può far sentire, alla lunga. Se sono giocatori che magari vengono sfruttati, giocano più stabilmente in squadra. Pescara-Sanità, abbiamo detto, doppio ex. Un doppio ex importante perché ha allenato Franco Oddo il Pescara dal 94 al 96. Nel 94 sostituì Giorgio Romignani dopo la sconfitta di Perugia. La ricordo perfettamente quella partita perché l'ho seguita a gol di Federico Giunti. Arrivò Franco Oddo, salvezza tranquilla. L'anno successivo un grande campionato e ricordiamo tutti quella strepitosa prestazione di Salerno. Gennaio 1996, grandissimo gol di Federico Giampaolo, raddoppio di Gelsi. Primo posto in classifica, poi sappiamo tutti le vicissitudini di quel campionato, però rimane un grandissimo ricordo. Io sono stato a Pescara per due anni, ma anche a Salerno sono stato per due volte. Una volta in Serie A, una volta in Serie B, quindi nutro dei ricordi alterni sia a Pescara che a Salerno. Momenti di grande esaltazione, momenti quindi bellissimi, come altrettanti momenti invece di costernazione e di cose che non andavano bene. Vedendo le due semifinali di Champions League, quella tra Barcellona e Liverpool e quella proprio di ieri sera tra Ajax e Tottenham, possiamo dire senza tema di essere smentiti che in Italia siamo ancora molto indietro? Sì, io direi di sì. Io vedo una cosa, vedo tante partite in televisione, i commentatori per esempio verso il 55esimo, 60esimo, incominciano a dire che le squadre sono stanche, le squadre sono stanche e questo mi fa una rabbia, ma una rabbia. Ma le squadre italiane, quando vedete il campionato italiano, le partite italiane, le squadre sono stanche, adesso le squadre si allungano, ma perché dovrebbero essere stanche le squadre dopo 55-60 minuti? Ma perché le squadre si debbono allenare per 60 minuti? No, si debbono allenare per 95 minuti e hanno le condizioni, hanno la gioventù, hanno preparatori atletici, adesso ci sono tutti i mezzi possibili, immaginabili sotto il profilo tecnologico per poter valutare la forma dei singoli giocatori, valutare gli allenamenti, hanno tutto per poter fare 100 minuti ogni partita a 1000. In Italia però siamo sempre stanchi. In Europa vince l'idea soprattutto e anche l'organizzazione tattica, qui si è indietro anche sotto questo profilo, perché l'unica squadra europea esistente in Italia oggettivamente e obiettivamente è l'Atalanta di Gasperini. Sì, è vero. Infatti l'Atalanta, ecco, per esempio l'Atalanta fa risultati non perché ha grandissimi giocatori, ha una buona squadra ma non eccezionale, però è una squadra che in campo è preparata benissimo, corre dal primo al 95esimo minuto con lo stesso ritmo. Intensità, quindi? Intensità. E corrono in sincronia e in sintonia, cioè l'uno con l'altro. Franco, siamo in chiusura, anche perché non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Pescara-Salernitana. La Salernitana si è affidata a Menichini, purtroppo è esonerato Gregucci, però i risultati poi sono stati determinanti. Tra l'altro 8 K.O. nelle ultime 10 partite, 4 sconfitte consecutive. Gregucci, leggevo con interesse, è stato un tuo giocatore Reggio Emilia, altra esperienza in Serie A che hai fatto quando eri molto giovane. Ecco, è stato giusto sicuramente l'avvicendamento. Menichini conosce l'ambiente. A cosa deve stare attento, secondo te, il Pescara di Pillon? Alla disperazione della Salernitana, perché la Salernitana penso che l'unico risultato che potrebbe salvarlo è la vittoria e forse neanche quella, perché dipende anche dagli altri risultati. Il pareggio non credo che gli possa servire e quindi è chiaro che cercherà di vincere. Il Pescara io penso che sia già nei play-off, però non può perdere, sarebbe meglio almeno non perdere, quindi pareggiare e non si deve accontentare. Secondo te deve cercare di fare una partita, tanto non ha niente da perdere, deve fare una partita normale, approfittando del nervosismo della Salernitana e cercare di vincere la partita, anche perché la classifica parla chiaro. Pescara ha più punti della Salernitana, quindi sulla carta è più forte. Rivisitando la tua esperienza a Pescara, c'è un rimpianto a distanza di, sono passati 23 anni, perché io ritengo che quella squadra 95-96 sia stata una delle più forti degli ultimi 23 anni in Serie B. Un rimpianto c'è grandissimo, che quell'anno finimmo il campionato di, cioè il giorno d'andata, prima in classifica, con un grande entusiasmo, una grande prestazione a Salerno, vincendo. Se non ci fossero state lotte intestine interne alla società, che poi si sono chiaramente propagate anche fuori, io penso che avremmo avuto ottima possibilità di vincere il campionato. Grazie a Franco Oddo, è stato davvero un piacere. Non so se ci sono domande da studio, Carmine. Grazie, grazie. Perfetto così. Grazie, grazie ancora a Franco Oddo. In bocca al lupo per tutto. Magari arriverà una chiamata. Nella vita tutto è possibile. Grazie ancora, linea a te Carmine. Grazie Massimo, grazie a Mr. Oddo, soprattutto per le sagge parole sul momento che vive il nostro calcio.